Quel video è arrivato! Pizza in teglia straordinaria! Andiamo! Io sono troppo contento di portarvi questa ricetta sul canale. Questa pizza è veramente la fine del mondo, ok? Chiedo perdono se la ricetta l'ho postata solo adesso, ma sinceramente non ho mai pensato che fosse interessante per voi la ricetta della pizza perché su YouTube è pieno di pizze. Quando però ho visto, postando una foto nelle storie di Instagram, che molti erano interessati alla ricetta, ho detto ok Davide, è arrivato il momento. E non capisco neanche perché non ci sono arrivato prima, visto che quando la faccio magari ci sono anche degli ospiti, mi dicono wow, che bella consistenza! Impazziscono per la consistenza perché sotto è croccantina e dentro invece è soffice, non è secca, ha dei bellissimi alveoli, secondo me è una delle cose che amo di più. È proprio una piuma, vi giuro, un buonissimo sapore, insomma la pizza poi mette d'accordo sempre tutti, molto digeribile e soprattutto io in questo video non voglio nascondervi assolutamente nessun segreto perché mi dà sempre fastidio quando provate a fare una ricetta che viene spiegata in un video e nonostante voi la seguiate alla lettera non viene come speravate. Ah, una cosa pazzesca è che questa pizza è fatta senza planetaria, quindi so che rendo felici ancora più persone. Come sempre la ricetta scritta la trovate sul blog, però prima guardate il procedimento che secondo me serve anche per capire maggiormente come dovete fare ed è facilissima da fare. Prima cosa da fare se volete una pizza ottima è la scelta delle farine perché non tutte le farine sono uguali amici, ci sono farine forti, farine deboli. La farina forte è una farina che ha una quantità di proteine abbastanza consistente e riuscirà a reggere maggiormente una percentuale di acqua alta e anche una tempistica di lievitazione più lunga. Ci sono addirittura delle farine anche che si trovano facilmente al supermercato come quella che vedete qua nella clip che non pubblicizza assolutamente però semplicemente per farvi vedere che appunto questa farina ce l'ha scritta, la forza che è determinata dalla W, in questo caso 350, mi trovo molto bene, la trovo facilmente al supermercato, sono sicuro che la trovate al supermercato anche voi, ci sono anche degli shop online comodissimi. Per fare questa pizza una farina ideale è tra 300 e 350 di W o comunque deve avere almeno 13 grammi di proteine su 100 grammi di farina e questa cosa la trovate nella tabella nutrizionale. Io amo miscelare una piccola percentuale di farina integrale perché mi piace sentire un sapore rustico, è facoltativa, io ve la consiglio. Nell'acqua fresca mettiamo il lievito, facciamolo sciogliere con un pochino di miele oppure di zucchero. È arrivato il momento di versare l'acqua nelle farine tenendone da parte veramente pochissima, un goccio d'olio, iniziamo a mescolare fino a quando tutta l'acqua ha assorbito la farina, copriamo con un canovaccio inumidito e lasciamo riposare 20 minuti. Il sale non l'abbiamo neanche messo, quando è che lo mettiamo? Lo mettiamo adesso, dopo i 20 minuti di riposo che nel frattempo il glutine si sarà rilassato e quindi l'impasto comincerà già a formarsi. Prendiamo il sale, lo mettiamo sulla superficie, aggiungiamo quel goccino di acqua che abbiamo tenuto da parte e iniziamo a fare queste pieghe che notate nelle clip. Quindi portiamo l'impasto dall'esterno verso l'interno in questo modo per circa 6-7 volte. Quindi copriamo ancora l'impasto, lasciamolo riposare altri 20 minuti e successivamente facciamo lo stesso passaggio. Cosa servono le pieghe? Servono per dare forza e struttura all'impasto. Cioè noi dobbiamo proprio dare una struttura architettonica. Dovete pensare che sia tipo una sorta di centrino che viene cucito e questo centrino è la maglia glutinica. Man mano che viene piegata, effettivamente, si forma sempre di più. Quindi il vostro impasto, seppur non starete là a impastarlo per troppo tempo, risulterà liscio. Anche i riposi faranno questo. L'impasto si rilasserà e quindi il glutine riuscirà ad essere molto elastico e veramente vi darà una soddisfazione incredibile quando la pizza ve la magnate. Lo giriamo dall'altra parte, proprio così capovolgere, perché poi facciamo delle pieghe diverse rispetto a quelle che abbiamo fatto ora. Altri 20 minuti e facciamo delle pieghe diverse. Non riesco a spiegarvi troppo bene, però nelle clip si nota, no? Come facciamo le pieghe. Queste pieghe dovranno essere fatte per 3-4 volte. Serviranno anche per inglobare aria all'interno dell'impasto. Altri 20 minuti ancora e facciamo delle altre pieghe, che saranno però uguali a quelle che abbiamo fatto un attimo prima nella ciotola, però questa volta le facciamo direttamente sul banco. Quando fate queste pieghe, non è vostra amica la farina, ma è vostro amico l'olio oppure un goccino di acqua, perché l'impasto deve rimanere molto idratato, ok? Ora è arrivato il momento del riposo. Durerà un'ora e mezza a temperatura ambiente. Con le mani unte o con l'aiuto di un tarocco sempre un po' unto, facciamo la pirlatura. Quindi cercheremo di dare la forma di palla all'impasto, un goccino di olio per evitare che si attacchi, copriamo e lasciamo riposare, come abbiamo detto, per tutto quel tempo. Altre pieghe veramente giusto per inglobare ancora un po' di aria e poi lo lasciamo in frigorifero per 18 ore. Sarebbe bello se voi lo faceste questo, perché darà all'impasto un miglior sapore, un miglior profumo, caratteristiche organolettiche e soprattutto una miglior digeribilità. Gli sforzi che ci avrete messo a farla verranno assolutamente rifagati. Quando la pizza lievita poco, oltre ad essere pesante, tende anche a farvi venire sete, anche se mangiate una pizza con due verdure sopra, ad esempio. Basta solamente organizzarsi. Preparate l'impasto il giorno prima e il giorno dopo sarete ancora più invogliati a mangiarvela quella pizza, perché avete aspettato e poi sapete anche che sarà più leggera per il vostro stomaco, il top. Passato questo tempo noterete che l'impasto sarà pieno di bolle, sarà bellissimo. Se rimarrete lì e dite wow che cosa ho combinato, con nemmeno l'uso della planetaria, wow adoro. Spolverata di semola di grano duro. Per fare una pizza in teglia normalmente si usano circa 600 grammi di impasto totale, quindi in questo caso ne abbiamo un chilo e due più o meno e quindi lo dividiamo in due. E fate queste pieghe che daranno ulteriore forza all'impasto e faranno in modo che all'interno venga inglobata dell'aria. Dovete fare la stessa cosa con l'altro pezzo di impasto. La lievitazione di 4-5 ore, sempre a temperatura ambiente questa volta, verrà fatta in contenitori rettangolari, perché così avremo già una sorta di forma rettangolare per essere più facilitati quando è ora di stendere la pizza. Se non avete dei contenitori rettangolari appositi, vi prendete una bella vaschettona di gelato, ve la mangiate tutta e quella la sciacquate e la terrete per le vostre pizze. E sarà perfetta, ok? Senza fare chissà che investimento. Ora giuro che è arrivato il momento di fare la pizza. Della serie era anche ora, immagino. Prendiamo una pagnotta lievitata, una bella spolverata di semola di grano duro sul piano da lavoro. Ci scraventiamo l'impasto. Inizialmente, come se fosse un pianoforte, ci facciamo dei buchi intanto all'esterno e poi all'interno, in questo modo proprio, no? Poi non dobbiamo schiacciarla ulteriormente, ma piuttosto dilatiamola con le mani. La pizza è sospesa, le vostre mani cercheranno di darle una forma rettangolare e a quel punto avete due modalità di cottura top. Nel frattempo il forno sarà alla massima potenza, 250-260 gradi, modalità statica. Voi potreste avere due tipi di teglia a casa, o la classica teglia da forno, come ho io, oppure se siete super professionali, la teglia in ferro blu, che ha un'alta conducibilità del calore e farà in modo che la pizza si sviluppi molto in cottura. Se avete la teglia in ferro blu, basterà che voi, sulla teglia lievemente unta, ci adagiate la vostra pizza. Se invece non l'avete e volete comunque che la pizza si sviluppi in forno come se aveste la teglia in ferro blu, fate così. Lasciate la teglia in forno a scaldarsi, mentre il forno si preriscalda, no? Voi vi siete organizzati in questo modo. Avete preso un pezzo di carta forno della stessa grandezza della teglia, l'avete unta lievemente, dovete prendere la pasta e metterla sulla carta da forno. Ci mettete sopra il pomodoro, come fareste poi direttamente sulla teglia in ferro blu, oppure quello che volete. Appena condito con un pizzico di sale, olio, insomma, vedete voi. Ce ne mettete poco, però di pomodoro non tanto, perché servirà per non fare una crosticina in superficie. Ma se ne mettete poco, la pizza si svilupperà meglio, perché pesa meno. Se invece metteste troppo pomodoro, la pizza sarebbe un po' bassina e con i belli alveoli non li vedete. Ah, metteteci un filo d'olio, mi raccomando. Quando il forno è caldo, togliete la teglia. Dovrete prendere proprio la carta forno, ok? Che sta sotto la pizza, in modo che la pizza vada sulla teglia, ok? Poi subito in forno, nella parte più bassa, toccando proprio la superficie del forno, abbiamo detto la massima potenza per circa un quarto d'ora. Dovrete proprio ogni tanto controllare che la base sia cotta, deve proprio essere cotta, bella croccantina. Se ovviamente avete la teglia in ferro blu, la mettete direttamente dentro nel forno, anche se è fredda. Quando siamo arrivati al punto perfetto di cottura della base, togliamo la teglia dal forno, ci mettiamo ancora un pochino di pomodoro o di crema, di zucca, di cima di rapa. Poi ci mettiamo la mozzarella o quello che volete. Ora la parte più alta del forno e lasciamola dentro fino a quando la mozzarella sia sciolta e notate che la crosticina si sta un pochino dorando. La pizza è pronta, la togliete dalla teglia, la tagliate con una rotella per pizza e noterete questi alveoli che si saranno sviluppati proprio come se voi aveste usato una teglia professionale. Se invece avete la teglia in ferro blu, che poi non costa neanche tanto quindi potreste tranquillamente comprarla, avrete una garanzia e una grandissima comodità. Spero tantissimo che questo video sia stato utile. So di aver parlato per troppo tempo, però io ci tengo veramente che ogni volta che faccio un video, soprattutto su YouTube, voglio che risulti quasi definitivo. Nel senso che voi avete a disposizione una spiegazione dettagliatissima che non avete poi necessità di continuare a cercare informazioni quando preparate quel piatto. Siccome molti mi chiedono anche delle opzioni vegane, se volete una pizza vegana straordinaria, io l'ho fatta e è pazzesca. Crema di cavolo nero e ceci, zucca al forno, porcini, rosmarino e broccolo. Mi raccomando, se provate a fare questa ricetta, taggatemi su Instagram o su Facebook, almeno la prima volta che la fate. E sappiate che su Instagram trovate anche altre idee attraverso i reel che pubblico. Vi lascio qua altri due video se non li avete ancora visti. Iscrivetevi al canale e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui nuovi video. Invece qua sotto trovate il collegamento per andare sul blog e vedere la ricetta scritta, come vi ho detto, e altre ricette con tutte le dosi, ingredienti, procedimento e anche altri consigli. Noi ci vediamo presto, grazie al supporto come sempre. Noi ci vediamo presto.